Ho questa fotografia grazie alla cortesia della signora Anna Borgia, da pochi anni scomparsa. Documenta un barbatellaio impiantato sui terrini che corrispondono all'attuale Villa Catena a Rio Nilo, nella parte più prossima a Piazza Venti Settembre. Piazza Venti Settembre Porti e da Vasche per la raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione delle coltivazioni. Non è improbabile che la coltivazione delle barbatelle fotografata appartenesse proprio al padre della signora Anna, Costantino Borgia, che proprio in quegli anni commerciava talee di viti americane. Costantino Borgia era una persona molto nota e ancora oggi ricordata come competente e abile insegnante di esercitazioni pratiche presso la locale scuola di avviamento professionale, ubicata nelle tre casette asismiche costruite dopo il terremoto del 1930, oggi unite in un unico edificio scolastico per la scuola dell'infanzia. Borgia curava in particolare l'insegnamento delle tecniche agricole basilari, dandone dimostrazione pratica nel campo sperimentale della scuola, situato dove ora sorge la zona artigianale, nei pressi di Fontana 61. Borgia curava in particolare l'insegnamento delle barbatelle,